Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appunto Appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito con le prime pagine dei quotidiani regionali, andiamo sul centro che già vedete alle mie spalle nell'edizione di Pescara, il titolo di apertura, indagini su una lite con il cugino, chiaramente si tratta dell'inchiesta che riguarda l'omicidio di Alessandro Neri, delitto di Pescara. Neri giustiziate con un colpo alla testa, oggi arriveranno i RIS per esaminare l'auto del ragazzo, una 500 di color rosso. Andiamo a vedere le altre notizie, andiamo nelle cronache perché oggi torna in campo il Pescara, la sfida con il Carpi, Epifani scaccia la paura, Pescara ripartiamo. L'obiettivo è cancellare la batosta di sabato e ripartire dopo il KO con il Parma. Massimo Epifani prova a scuotere il Pescara. I play-off sono lontani 7 punti e lo spettro della zona play-out si avvicina. Poi vedremo più avanti di approfondire anche i temi che riguardano il Pescara. Continuiamo con le cronache. Corso Vittorio riapre tra una settimana. E questo è il titolo che invece riguarda la politica e le tante polemiche che ci sono state proprio sulla riapertura a doppio senso di Corso Vittorio a Pescara. E poi Francavilla al mare, perduti in dieci anni circa mille alberi. Prima di andare a vedere la fotonotizia andiamo nel taglio alto. Come risparmiare sulla polizia, assicurazione auto, un abruzzese su cinque, usa la scatola nera. Eccola qui, appunto la scatola nera che serve a registrare tutti i dati dell'auto che poi vengono utilizzati anche in caso di incidenti. Ancora nelle scuole è vaccinato il 98% dei bimbi a Sulmona, tre casi no vax. E ancora Industriale Morto, Soffiantini e le 96 ore che sconvolsero l'Abruzzo. Andiamo a centropagina adesso. Nella fotografia il vincitore del festival, Ermalmete, incontra i fan al centro d'Abruzzo. Il vincitore del festival di Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, ha incontrato i fan per firmare le copie del suo ultimo album, Non abbiamo armi. Il tutto è avvenuto all'interno della galleria del centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo, come sempre filmato da Giuliano Di Tanna, Franca Leosini, nostra signora dei delitti. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere adesso l'apertura della prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo principale è Teatriservizi, rivoluzione al vertice Chieti. I conti sono in rosso per quanto riguarda il comune, tagliati gli incarichi al direttore generale Barbone. Il taglio alto è il medesimo rispetto a quello che abbiamo già visto. Andiamo nelle cronache dove ritroviamo il delitto Neri Pescara alla nuca. Il colpo fatale delitto Neri si indaga su una lite con il cugino. Indagini a tutto tondo per scavare nella rete di rapporti di Alessandro Neri. Il giovane ucciso con due colpi di pistola, quello fatale alla nuca, quasi certamente sul greto del torrente Vallelunga Pescara lo scorso lunedì. Indagini imbastite con gli elementi che stanno emergendo, grazie anche a quanto riferito dalle decine di persone ascoltate finora fra amici e familiari. Andiamo a Lanciano adesso. Corso e centro storico non saranno più divisi. E poi a Vasto, Vandali sul Belvedere, danni all'area chiesa. Andiamo a vedere ancora a centro pagina. A Chieti, la tradizio simboli, mille cresimandi in corteo insieme a Forte. Si sono dati appuntamento al seminario regionale dove le aspettava l'arcivescovo e poi hanno sfilato lungo corso maruccino fino ad arrivare in cattedrale. Sono i cresimandi giunti da tutte le 150 parrocchie dell'Arcidiocesi per partecipare alla tradizio simboli. Andiamo ancora avanti sulla edizione teramana del centro. Anche qui in apertura troviamo la cronaca nera. Santoleri richiesta d'arresto bis. Pittirice uccisa. La decisione è la conseguenza del passaggio dell'inchiesta a Teramo. Proseguiamo. Andiamo a vedere adesso nella fotonotizia. La festa degli studenti in 8.000 al santuario per il rito dei 100 giorni. Circa 8.000 studenti arrivati da tutto il centro Italia hanno partecipato ieri. Leggiamo dalla didascalia all'ormai tradizionale raduno a San Gabriele per i 100 giorni dall'esame di maturità. La pioggia ha limitato le attività ma non ha fermato la tradizionale benedizione delle penne. Vedete proprio il rito tradizionale in questa fotografia. Ritroviamo nelle cronache il delitto di Alessandro Neri che abbiamo già visto in precedenza. Allora scendiamo, andiamo avanti. Gli salvano la gamba dall'amputazione e buona sanità al Mazzini di Teramo. E poi Mastro Mauro e il PD. La tregua è possibile. Rischio crisi a Giulianova. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. in apertura a prezzi bassi per attirare i turisti. L'Aquila, il direttore artistico della perdonanza di Amicis, agli albergatori chiede più servizi. Andiamo a vedere adesso nella fotografia il record nazionale. All'Aquila la tassa rifiuti più cara d'Italia. Nella didascalia, leggiamo, anche per il 2017, l'Aquila ha il record della tariffa più alta d'Italia per la tassa dei rifiuti, la Tari per le utenze domestiche, sulla base di una famiglia di tre persone, un appartamento di 80 metri quadrati. E anche per il 2018 non si vedono sconti. Banchi ospedali invece pagano meno. Andiamo a vedere nelle cronache. Villa Vallelonga restano senza passaggio e rubano un'ambulanza. L'Aquila albanese morto e caccia ai cani killer. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine regionali. Adesso andiamo a vedere il messaggero, l'inserto Abruzzo. In apertura ritroviamo il titolo che riguarda l'omicidio oneriale. È stata una esecuzione. Un colpo di pistola al petto, un secondo mortale alla testa. Il giovane è caduto in un agguato. I carabinieri battono ancora la pista familiare. Il colonnello Riscaldati dice non ci sono al momento indagati. Andiamo a leggere l'estratto dell'articolo che ha avuto anche un richiamo sul nazionale. Molti quotidiani nazionali si stanno occupando di questa vicenda. Quella di Alessandro Neri è stata una vera e propria esecuzione. La conferma arriva dall'autopsia eseguita sabato dal medico legale Cristian Dovidio su disposizione delle PM. Valentina D'Agostino, il ragazzo di 28 anni di spoltore trovato senza vita il giovedì scorso a Fosso, Valle Lunga vicino al cimitero di San Silvestro, è stato ucciso con due colpi esplosi a distanza ravvicinata da un'arma di piccolo calibro. Due colpi di cui quello letale alla testa, nella parte superiore, come riferito dal comandante provinciale dei carabinieri Marco Riscaldati, era conficcato nella calotta crani, che è stato recuperato, ha spiegato il colonnello Riscaldati ed è stato affidato all'esame dei carabinieri del RIS di Roma. L'altro colpo, quello non mortale, ha raggiunto il giovane al limite orace sinistro. Il killer, quindi, prima ha puntato l'arma contro il petto del giovane, gli ha sparato e poi l'ha finito con un colpo alla testa. sempre dall'autopsia, non sarebbero emersi segni di colluttazione. Allora, visto che siamo a parlare di questo argomento, possiamo subito andare a vedere l'intervista al colonnello Riscaldati nella conferenza stampa un po' improvvisata che c'è stata ieri alle ore 17 nel comando provinciale, proprio fuori il portone. Possiamo andare a ascoltare il colonnello. La vittima è stata attinta da due colpi d'arma da fuoco, uno all'emitorace sinistro, che non si è rivelato mortale, e un secondo colpo alla testa. Il colpo alla testa è stato rintracciato nella calotta cranica, quindi la parte superiore. L'arma che è stata utilizzata si presume sia di piccolo calibro. Il colpo che è stato ritenuto, che si è recuperato, è stato già affidato all'esame del RIS Carabinieri di Roma. Con riguardo sempre ad altre notizie che sono apparse, voglio precisare che dall'autopsia non è emersa una fase di colluttazione che possa avere in qualche modo riguardato il volto o il corpo della vittima. Per cui non c'è stata colluttazione, non è emerso questo elemento. Sul luogo del ritrovamento, un altro elemento che si vuole precisare, non è stata ritrovata la chiave della macchina. Il portafogli, qualcuno ha ipotizzato, non è stato trovato perché semplicemente Alessandro Neri non era ad uso a utilizzare il portafogli, portava i suoi effetti personali in maniera sciolta all'interno delle tasche. che non sono stati ritrovati. Quindi né documenti né carte di credito? No. Il telefono invece cellulare è stato ritrovato sul luogo del ritrovamento. Perché l'hanno lasciato? Si sono stati poi svolti, come sapete tutti, ulteriori accertamenti in più occasioni sul luogo del ritrovamento che sono anche questi all'esame del RIS di Roma. Ma l'hanno ammazzato lì, colonnello? In questo momento non siamo in grado con certezza di stabilire questo aspetto. Naturalmente, così come ogni reperto che è stato recuperato, anche l'autovettura sarà sottoposta ad esami approfonditi da parte del RIS di Roma. Come avete ascoltato, il RIS sarà oggi a Pescara per analizzare l'auto del ragazzo. Proseguiamo con la lettura del giornale Il Messaggero edizione Abruzzo. Andiamo a vedere le altre notizie. Vaccini, bambini esclusi dalle scuole e dagli asili. 8 all'Aquila, 4 a Sulmona. Tutti gli altri casi sub iudice, il quadro che emerge per quanto riguarda le vaccinazioni. Le percentuali però sono molto elevate. Si è tornati ai livelli di tranquillità per quanto riguarda le vaccinazioni. Andiamo a vedere ancora un'altra notizia che arriva dall'Aquila. Fogno Struite si va in procura. È stata informata la procura del caso dello sversamento delle malte nelle condotte fognari di Corso Vittorio Emanuele. Nella fotonotizia invece troviamo la Serie B del Pescara. Oggi è l'Adriatico Ciel Carpi. Epifani chiede la svolta. Questo pomeriggio alle 18 si recupera la gara contro il Carpi, che non si giocò a causa del maltempo. Si gioca allo stadio Adriatico Cornacchia. Proseguiamo con il giornale. Andiamo adesso di spalla. Rabbia degli studenti oggi in regione. Uno su tre senza borsa di studio. Andiamo a vedere perché. Sono 2041 i ragazzi in attesa del contributo regionale. Nel taglio basso restiamo sempre agli studenti. San Gabriele, acqua e alcol per quanto riguarda la festa nel santuario di San Gabriele. Per i tradizionali 100 giorni all'esame di maturità. Tutto più o meno è filato liscio. Andiamo nel taglio alto adesso. Le altre notizie. Teramo di Litto Rapposelli. Il marito compie gli anni dietro le sbarre. Poi Bussi, veleni interrati. Oggi la sentenza definitiva della Cassazione a meno di rinvii. E poi Chieti. 15 fucili e 4 pistole in casa del dentista arrestato. Si tratta di armi detenute legalmente ma ritirate per precauzione. Il professionista aveva coltellato un trans in casa dopo un litigio. Cambiamo testata. Adesso passiamo alla città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. PD dibattito aperto sulle primarie. Ginobble le propone. Mariani teme strappi. In settimana la decisione sulla scelta del candidato. Andiamo a centropagina. Adesso nella fotografia. Obbligo scolastico. Corsa ai centri dell'ASL per i ritardatari. Assalto vaccinale. E il titolo di spalla. Teramo a 5 Stelle. Rumors sulle candidature. Ecco Rocchetti. Quello giusto. Silvia 5 Stelle, una stimata commercialista per prendersi il comune. Poi guerra di perizie sul depuratore ad Albadriati. Che è il consulente della procura punta sul ruzzo. Ritorniamo alla politica. Quagliarello. Addio a NC. Movimento Idea sarà autonomo. E poi ancora Giulianova. Ultimatum del sindaco al Partito Democratico. Basta Teatrini. O me ne vado. Nel taglio basso. Da Roseto degli Abruzzi. Municipale. Tarquini. E la comandante. Poi la sede C. Mancanze già note per il diavolo. In corsa per la salvezza. A piccoli passi. Apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Ora andiamo a vedere il Corriere della Sera. Segnale del PD al Quirinale. Il titolo di apertura. Dopo le elezioni. La direzione dei democratici. Guida collegiale Martina e il reggente per il dopo Renzi. Salvini intanto boccia le larghe intese. Noi all'opposizione. Ma garantiamo a Mattarella il nostro apporto. E quanto detto in estrema sintesi dal Partito Democratico. Invece nel taglio alto andiamo a vedere i cinque anni di pontificato di Papa Francesco. Ratzinger scrive una lettera. Stolti i pregiudizi su Bergoglio. Una lettera che indica la continuità tra i pontificati. C'è poi l'editoriale di Gian Antonio Stella. Promesse in realtà i cinque stelle alla prova dei fatti. Andiamo su Repubblica adesso. Anche qui il titolo è sulla direzione del Partito Democratico. PD sceglie Martina. Ora unitare. Reggente senza voti contrari. Ripartiamo dai 6.000 circoli del partito. Renzi. Mi dimetto ma non mollo. Provi di accordo Lega 5 Stelle per le presidenze. Si tratta su Giorgetti alla Camera. E Toninelli al Senato. Poi ritroviamo questa bella fotografia di un abbraccio fra Papa Ratzinger e Papa Francesco. Ratzinger basta con lo stolto pregiudizio su Bergoglio. Andiamo sulla stampa. Il titolo principale è di politica. Di Maio. Piano per un governo senza politici. Esecutivo istituzionale per una nuova legge elettorale. Nasce il PD intanto del dopo Renzi. Martina è il reggente. Sigla la tregua. Noi restiamo all'opposizione. Questa è la scelta al momento del Partito Democratico. A centropagina vediamo la fotografia con la premier britannica Teresa May. Alta tensione Londra Mosca. May dice avete avvelenato la spia. La premier gas nervino prodotto in Russia. Chiarite la replica. Show da Circo. Proseguiamo adesso sul Fatto Quotidiano. Titolo di apertura sulla direzione del PD. Il PD in freezer. Niente governi. Martina fa il segretario Findus. La direzione Renzi non si fa vedere. Ma detta ancora la linea. Anti Di Maio. Questa la lettura del Fatto Quotidiano. Nel taglio alto, via il giudice della consulta, l'auto blu la usava la moglie. È indagato a Roma Nicolo Zanon. Vettura con autista per la signora. Sul manifesto il titolo principale sulla foto di Matteo Renzi. Vado e torno. Vado via ma non mollo. Dopo la batosta elettorale Matteo Renzi si dimette da segretario ma punta sull'ingovernabilità sperando di risorgere. La ruota gira. Al vice Maurizio Martina il compito di traghettare il PD verso l'elezione del nuovo leader ad aprile. Escluse le primarie. Chiusura ai 5 stelle. Staremo all'opposizione. Nel taglio alto troviamo il report di Banchi Italia. Mai così poveri e disuguali. Titola il manifesto. Andiamo su avvenire. Il titolo principale. Povertà, prima sfida, allarme di Banchi Italia, cresce la disuguaglianza, mattarella ai giovani, responsabilità e coraggio. Il fatto, la quota delle famiglie a rischio ha raggiunto i massimi dal 1989. Si allargano le disparità tra le generazioni e tra il nord e il sud. E poi troviamo nella fotografia Papa Francesco, la croce e la gioia del Vangelo per i 5 anni del suo pontificato. Sul sole 24 ore, sud incentivi in stand-by. Il titolo di apertura. Allarme di Banchi Italia sul reddito delle famiglie. Divario sempre più largo con gli stipendi del nord. Il passaggio di governo rallenta decreti attuativi per 350 milioni stanziati per il rilancio dell'economia nel mezzogiorno. Passiamo al messaggero. In apertura, Renzi, noi ago della bilancia. Così, dimissionario del PD. Via al PD a guida collegiale. Martina il reggente. L'ex leader è lo sfogo su Gentiloni e Franceschini. Salvini stoppa Berlusconi. Governo della Lega o niente. Mattarella dice, sorti comuni. Ora, corresponsabilità. Andiamo avanti. Andiamo adesso a vedere libero la tentazione di Salvini. Quasi, quasi, mi mangio Silvio. Forza Italia apre al PD, ma il capoleghista stoppa ogni ipotesi di alleanza. Si tiene le mani libere. Ha capito che se si tornasse a breve alle elezioni, il carroccio schiaccierebbe gli azzurri. E per questo non ha fretta di governare. Andiamo sulla verità. Torna subito. Renzi minaccia il PD. Non mollo. Dall'ex segretario nessuna autocritica. La ruota gira. La rivincita arriverà ai suoi diktat. Staremo all'opposizione. Poi il bullo inneggia alla libertà di stampa. Da che pulpito? Questa è la critica della verità. Andiamo sul secolo d'Italia. Boom, povertà. Il titolo sul report di Banca Italia. Proseguiamo ancora sul mattino. Il titolo principale. Renzi. Così ho protetto il partito democratico. L'ex segretario confide ai suoi. Ho stoppato l'appoggio ai 5 stelle. Franceschini era pronto a tutto. Martina è il traghettatore. Guida collegiale. Ora stiamo all'opposizione. E poi andiamo a vedere questa notizia curiosa. Il maltempo. 20 minuti di bufera. Blackout in tutta la provincia di Caserta. Sei feriti lievi. La tromba d'aria che ha ribaltato i camion. Andiamo a vedere i titoli anche di sport. Sempre restando ai giornali nazionali. Partiamo dalla gazzetta dello sport. La volata per l'Europa che conta. Inter Milan. Sfida capitale. Le milanesi inseguono le romane. Padrone di terzo e quarto posto alle spalle di Juve. Napoli. I derby possono essere decisivi nel taglio alto. Dzeko pensaci tu per gli ottavi di Champions. Notte da rimonta. Le 20.45 la partita su Canale 5. La Roma deve battere lo Shakhtar all'Olimpico. 1-0 o con due gol di vantaggio. Di Francesco Carica non si può sbagliare. Andiamo a vedere anche il titolo del Corriere dello Sport. In apertura coppia dei campioni. Iguain e Dybala a confronto con i grandi tandem Juve. Cinque bandiere li incontrano già nella storia. E poi nel taglio alto. Campionato falsato. Errori o malafede. Alla Lazio mancano almeno 12 punti. Immobile per guida simulato. Clamorosa denuncia del DS Tare dopo il rigore negato a Cagliari. E per la Champions di Francesco Allacarica. Forza Dzeko. Roma ti chiama. Andiamo su Tutto Sport. Anche qui per vedere il titolo di apertura. Juve e dirigenza blindata. Tutti confermati per quanto riguarda la Juventus. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Andiamo a riaprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dalla pagina Abruzzo del messaggero. Prevenzione e polemiche. Vaccini. Niente scuola per numerosi bambini. Otto all'Aquila e quattro a Sulmona. Gli esclusi comunicati dagli istituti. Per il resto la profilassi sulle patologie. L'assessore regionale Silvio Paolucci dice dati molto positivi. I problemi sono isolati e circoscritti. Le dosi sono state sufficienti. E poi troviamo quest'altro titolo. Inaurato al posto di D'Alessandro. Un rebus. La successione ad Alfonso. La convocazione del Consiglio regionale soltanto dopo la convalida degli eletti. Andiamo adesso sul quotidiano Il Centro. Assicurazione auto nelle pagine di primo piano. Come risparmiare il 20%. Un abruzzese su 5 scopre la scatola nera. Viene montata sulle vetture e diventa la spia per scoraggiare i ladri e ricostruire anche la dinamica degli incidenti. La scheda tecnica funziona grazie al satellite per tracciare gli spostamenti. Nel taglio basso c'è la parola all'esperto. Facciamola diventare obbligatoria per l'assicuratore Ciccarelli. Che è utile alle compagnie e agli automobilisti funziona anche contro le frodi. Proseguiamo con le pagine di primo piano. La scomparsa di Soffiantini. Quelle 96 ore di sangue che sconvolsero l'Abruzzo. Le sparatori di 21 anni fa per liberare dai rapitori l'industriale che è morto ieri. Vedete qui vengono riproposte le prime pagine dell'ottobre del 97 con le cronache del centro. Poliziotto ucciso durante la sparatoria. Si tratta di Samuele Donatoni. Poi la caccia agli assassini e presi in Abruzzo i quattro rapitori. Abruzzo appunto che è stato protagonista in questa vicenda che ormai fa parte della storia d'Italia. Scendiamo nel taglio basso. Bussi il processo verso il rinvio. Oggi salta l'ultimo atto in Cassazione ma non scatterà la prescrizione. Proseguiamo sulla pagina Abruzzo sempre del quotidiano Il Centro. Torniamo a parlare di vaccini. La nostra regione ha evitato il caos. L'Abruzzo supera l'esame dei vaccini a scuola. Il giorno della verità. Ecco il bilancio dell'assessore. La copertura ha superato il 98%. I bambini senza certificato sono 100 ma solo 3 quelli emersi a Sulmona sono appartenenti alla categoria cosiddetta No-Vax. Poi per le borse di studio. Oggi c'è la protesta degli studenti all'Aquila. Questa mattina tra poco, tra meno di un'ora a partire dalle 9.30. E poi nel taglio basso il glaucoma. In Abruzzo oltre 50.000 casi. Parte la settimana dedicata al killer silenzioso della vista. Mastro Pasqua dice prevenire si può. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro. La delibera prima del voto. La regione blinda 36 funzionari. Via libera 24 mesi extra di contratto. La Corte dei Conti aveva detto no al portavoce di Di Pangrazio. Poi Pettinari del Movimento 5 Stelle attacca D'Alfonso. Dimissioni dopo la proclamazione degli eletti. Apriamo adesso la pagina di Pescara. Restiamo al quotidiano Il Centro. Parliamo dell'omicidio neri. Si indaga su una lite per affari con il cugino. Dopo amici e familiari. I carabinieri vogliono sentire anche Gaetano Lamaletto. Il giovane partito per gli USA di recente a casa dove è stata ritrovata la Fiat 500. Cioè all'angolo tra via Mazzini e via Regina Margherita. Proprio in pieno centro a Pescara. Alessandro Giustiziato con un colpo alla testa. L'abbiamo ascoltato nella prima parte della nostra rassegna. Il comandante provinciale, il colonnello Marco Riscaldati, che ieri ha parlato alla stampa. Il killer ha premuto due volte il grilletto a distanza ravvicinata. Oggi i RIS arriveranno per analizzare l'interno della Fiat 500 rossa ritrovata in via Mazzini. L'ultimo saluto ad Alessandro Neri, detto Nerino, per il funerale c'è da aspettare il rientro di uno dei fratelli dagli Stati Uniti. Dunque, nonostante la salma sia tornata nella disponibilità della famiglia, i funerali slittano di qualche giorno. Andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara sul messaggero, perché è sempre dedicata all'argomento omicidio Neri. Ucciso da un secondo colpo alla testa all'omicidio di Alessandro Neri. Il colonnello Riscaldati conferma che il ragazzo è stato vittima di un'esecuzione. Non è chiaro se il 28enne sia morto a Fosso Vallelunga all'esame tabulati del cellulare e immagini delle telecamere. Mamma Laura aspetta di conoscere il volto e il nome dell'assassino del figlio. Non si trovano le chiavi della 500. Poi ancora un regolamento di conti per un fatto grave, massimo riservo sullo sviluppo delle indagini. E' chiaro che bisogna soprattutto capire qual è stato il movente anche per avere una mano a cercare l'assassino. Dopo il funerale, la salma sarà cremata e il dolore di papà Paolo in visita all'obitorio. La comunità italo-venezuelana si è stretta intorno alla famiglia Lamaletto, che è appunto di origini italo-venezuelane. Ancora nel taglio basso, autorubata a spoltore, arriva il RIS, scomparsa lunedì e ritrovata ieri dalla proprietaria. Ha ripetizzato un collegamento con l'omicidio Neri. Questo per quanto riguarda l'omicidio. Noi adesso continuiamo con il giornale Il Centro. La viabilità in centro a Pescara. Corso Vittorio riapre tra una settimana. Diodati torna in giunta e conferma il ripristino del doppio senso di marcia sulla strada, ma alcune auto lo hanno anticipato. Il rimpasto delle deleghe, traffico a Diodati, urbanistica a Scotolati dopo le dimissioni di Civitarese. Continuiamo sempre su questo argomento. Le reazioni al ritorno dell'assessore, malumori tra le liste civiche che quel posto aspettava a noi. E allora possiamo andare a vedere l'intervista all'assessore Giuliano Diodati che torna all'interno della giunta Alessandrini. L'assessore Diodati a distanza di qualche mese torna in giunta. Come mai questo ripensamento, questa decisione? Io francamente non ci pensavo per niente. Qualche giorno fa non mi balenava nel cervello un'ipotesi del genere. Ritengo che si possa ancora fare qualcosa per questa città, che io possa dare ancora un contributo a questa città. Ho parlato chiaramente col sindaco e gli ho detto che io rientravo a determinate condizioni. Lui non ha avuto nessun tipo di problema ad accettare queste mie condizioni, che sono condizioni di nessuna importanza. Il fatto di riavere le deleghe sulle quali avevo lavorato, il fatto di avere la mobilità e il fatto che in questo momento qui io non mi sento, essendo sospeso dal Partito Democratico con delle motivazioni, non credo che il fatto che mi sia stato proposto questo rientro in giunta può far modificare le motivazioni che io avevo per sospendermi. Mi aspetto altri passi da parte del Partito Democratico, non nei miei confronti, ma nei confronti della collettività politica, per cui proseguo nel percorso di liste civiche con il quale sto lavorando con tanti amici che si dovranno in qualche maniera misurare nella prossima tornata elettorale. A proposito di progetti, il suo pallino resta quello del nuovo stadio a Pescara? No, io il pallino del nuovo stadio non l'ho mai avuto sinceramente, nel senso che io ritengo che se ci sono dei privati che assumono l'iniziativa del genere, che vogliono intervenire nella costruzione di un nuovo impianto sportivo a Pescara, noi come amministrazione comunale dobbiamo sostenere questo tipo di intervento, però il nostro problema è quello che noi abbiamo uno stadio di proprietà, che è lo stadio Adriatico, che non può diventare una cattedrale nel deserto come altre cose che sono successe già a Pescara, mi riferisco al campo Rampigna, per cui prima di poter pensare di costruire un nuovo stadio noi dobbiamo fare un progetto per la riqualificazione dello stadio Adriatico e dobbiamo sapere cosa vogliamo fare di questo stadio, nel senso che bisognerà studiare con meccanismi di finanza quali sono le possibilità che questo stadio possa continuare a camminare con i suoi piedi, perché ripeto è un bene della collettività. Sulle pagine di Pescara del messaggero Corso Vittorio riapre al doppio senso di marcia, ma l'asfalto si è già sbriciolato, tornano le auto, ma il banto stradale nato per accogliere il filobus va risistemato in più punti, come potete vedere dalle fotografie. Blasioli, il vice sindaco, dice metteremo qualche rattoppo, ma per il momento nessun intervento, pronta intanto la delibera di giunta Diodati, primo giorno d'assessore, sono in giunta ma resto fuori dal PD, lo avete appena ascoltato Giuliano Diodati, e poi Montesilvano, lavori al via sulle strade, piene di buche. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere questa notizia invece che riguarda la zona franca, 7 milioni per le nuove imprese, vertici in comune con le associazioni, già pronti i fondi per le attività che nasceranno in periferia. Andiamo avanti, aree di risulta, i lavori entro la primavera 2019, vertici in regione per fissare il programma di interventi per Pescara, pronti 12 milioni per riqualificare l'ex estazione, e 18 per allungare l'aeroporto. Antonelli di Forza Italia critica il comune, trovi i soldi per sistemare le strade. E poi la Riviera Sud, affidato l'appalto, Blasioli quest'estate non saranno cancellati i parcheggi di fronte ai teatri, che era un po' il timore di diversi titolari di stabilimenti balneari della zona. Andiamo avanti, nascondeva in albergo false carte di identità, blitz della polizia in carcere, un 34enne sequestrati all'uomo, anche 15 tesserini di codice fiscale, 35 sim card e 1720 euro. Torniamo sul messaggero adesso, andiamo a completare la lettura delle pagine di Pescara. Bussi è il giorno della Cassazione. L'avvenenamento delle acque fu riconosciuto in appello, ma una prescrizione poi smentita fece evitare le condanne. Prosegue la battaglia per la bonifica e messa in sicurezza della discarica, scontro sui rifiuti definiti non pericolosi. L'avvocato Cristina Gerardis commenta, i danni ai terreni sono evidenti, anche più a valle. Il comune Altar contro la Edison. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Montesilvano. Si parla di rifiuti urbani, raccolta differenziata, avvio difficile al PP1. L'assessore Cigli risponde ai residenti del quartiere Rivierasco e spiega cosa fare per organizzarsi al meglio con il nuovo servizio, ma le proteste continuano. Proseguiamo con le pagine di Montesilvano e dell'area metropolitana. Fanghi marini, basta proroghe, città Sant'Angelo, interpellanza di Bracco, consigliere regionale di Leo, per il progetto Nicolai, fermo da 5 anni. Andiamo ancora avanti, passiamo a Francavilla, in 10 anni perduti circa 1.000 alberi, censimento comunale che fa il punto sul patrimonio arboreo cittadino, Movimento 5 Stelle propone di piantarne uno per ogni nuovo nato. Marinelli commenta, un parassita ne ha uccisi più di 300. Intanto a Via Pola, sempre a Francavilla, resterà chiuso il sottopasso per interventi idraulici urgenti. Andiamo a San Giovanni Tiatino, il sindaco martelli fuori dalla maggioranza, Marinucci risponde così al consigliere bocciato come assessore dalla coalizione. Ace pagati, più luce e sicurezza sulla strada 44, affidati alla ditta Asfalti Totaro di Altino, i lavori per la nuova corsia. Passiamo alla pagina della Val Pescara. Popoli sotto i 5.000 abitanti, si punta sulla fusione dei comuni, si unanime del Consiglio alla Commissione per la coesione che redigerà il piano entro dicembre, obiettivo l'accorpamento amministrativo con Bussi, altri centri della Val Pescara e dell'Aquilano. Poi parliamo di migranti, Manoppello apre al sistema SPRAR, avviso pubblico per la ricerca di partner nel progetto di accoglienza, le domande entro il 21 di marzo. Scendiamo ancora nel taglio basso, appenne convegno Abrex, nuove modalità di accesso al credito. Sempre sul quotidiano Il Centro, apriamo la pagina di Chieti, cambio nella società partecipata, tiate servizi, tagliate le deleghe, al capo l'amministratore festa, riduce gli incarichi al direttore generale Barbone, ora deve occuparsi solo della riscossione delle tasse. Il buco nei conti, la decisione presa dopo una nota del collegio dei revisori in cui si chiedono azioni più forti contro i morosi. Il caso stipendio, chiesto un parere legale sul tetto massimo dell'indennità, l'avvocato speziale deciderà sull'importo dovuto al direttore generale. Nel taglio basso, Papa lascia il tribunale, torna a Campobasso, il giudice assolto dopo la denuncia del governatore del Molise, Paolo Di Laura Frattura, diventa magistrato alla procura generale molisana. E dunque da ieri ha lasciato il tribunale di Chieti. Andiamo sempre avanti sulle pagine di Chieti, la tragedia di Torrebruna, giudizio per l'amico morto col trattore, Franco Valentino, si rovesciò con la pala meccanica prestata, il proprietario del mezzo ha processo per omicidio colposa. Castiglione Messer Marino, auto si ribalta lungo la strada franata. Scendiamo, andiamo a Casalbordino, piattaforma, il comune vuole 200 mila euro, estrazione del gas dal mare, l'ente chiede il pagamento di ICI, Imu, ma Edison fa ricorso. E poi nel taglio basso, Fossacesia, momenti di paura sulla 14, tiri in fiamme sull'autostrada, il conducente si salva. Andiamo adesso ad aprire la pagina di Chieti sul messaggero. Tentò di uccidere la trans, gli ritirano 15 fucili e 4 pistole, carabinieri a casa del dentista arrestato, provvedimento preso in via cautelare. Per gli investigatori va scongiurato il pericolo di uso improprio delle armi. Tutto era detenuto legalmente, Sposito e il padre sono cacciatori, portate via anche numerose munizioni. E poi l'evento, Staminalia, l'annunzio giornata europea sulla ricerca il 16 di marzo. Nel taglio basso alla sanità, dopo i soldi arriva il progetto, poi gli amburatori verso l'appalto, medici e pediatri opereranno con gli specialisti nel vecchio ospedale, meno accessi al pronto soccorso del clinicizzato. E poi nella pagina della provincia, carcere più grande, gli agenti protestano. Questa mattina apre una sezione per 50 detenuti comuni adiacenti a quella degli indagati o condannati per mafia. Le 135 guardie penitenziarie di Lanciano dicono dovremmo essere 157 manifestazioni e sit-in durante l'inaugurazione. e poi vecchia ferrovia sangritana spunta l'ipotesi del filobus per la riqualificazione delle aree di risulta e nel taglio basso andiamo a vasto. I vandali devastano l'area verde della chiesa. Imbrattamenti e rifiuti subito rimossi dai volontari della protezione civile. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere anche la pagina che riguarda, l'altra pagina che riguarda la provincia. Smottamente a Santa Lucia. Fate presto gli altri lavori. Ortona, residenti sollevati per il progetto da 626 mila euro approvato dal comune. Passiamo adesso alla pagina di Teramo. Torniamo alla cronaca nera e giudiziaria. Il delitto della pittrice richiesta d'arresto bis per i santoleri. Atto dovuto dove il passaggio degli atti dalla procura di Ancona a quella di Teramo oltre 20 giorni, entro 20 giorni, scusate, la decisione del GIP per i due già in carcere. E poi in coda per i vaccini obbligatori. quasi 100 pazienti a Casalena e nel taglio basso il comitato referendum sul destino del teatro romano di Teramo. Andiamo nella pagina della provincia e troviamo i 100 giorni all'esame a San Gabriele, magliette e fotoricordo per il rito dei 100 giorni in 8 mila al santuario da tutto il centro Italia per la benedizione delle penne. Maxi servizio d'ordine, tiene lontani droga e alcol, impegnati decine di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, posti di controllo con etilometro e camion di traverso contro il terrorismo. E poi nel taglio basso il vescovo, ho visto attenzione, la prima volta di Monsignor Leuzzi, tra i giovani c'è voglia di seguire Gesù. Tra poco andremo a vedere il servizio, prima però andiamo a vedere anche la pagina di Teramo sul messaggero, eccola qui, 100 giorni alla maturità, 10 mila in festa con il vescovo, due ragazzi trovati ubriachi, al pellegrinaggio anche la classe del liceo container di Amatrice, benedetti penne, smartphone e tablet, poi fuggi fuggi degli studenti per la pioggia. E allora possiamo andare a vedere insieme il servizio. 100 giorni agli esami, una vita da vivere, benvenuto giovane, non lasciarti rubare la speranza. E questo è lo slogan oggi qui al santuario di San Gabriele della Dolorata, a Isola del Gran Sasso. Nonostante la pioggia incessante, gli studenti delle ultime classi superiori dell'Abruzzo e delle regioni limitrofe non hanno disertato l'appuntamento con il Santo dei Giovani e in 10 mila si sono ritrovati a pregare nel santuario di San Gabriele, ad Isola del Gran Sasso, per gli esami e per il proprio futuro lavorativo. Tanti controlli effettuati da finanza e polizia per evitare l'eccessivo consumo di alcol e stupefacenti. Tutto nella normalità. Non lasciarti rubare la speranza. Qual è la vostra speranza? La speranza è di uscire, basta. Di riuscire agli esami? Esatto. Hai anche un'altra speranza oltre agli esami? Lo stesso. Ma oltre agli esami avete anche un'altra speranza? Eh, ci sono tante speranze, il lavoro, tantissime cose. Un bel futuro nel campo lavorativo comunque. Innanzitutto di farli in maniera molto corretta, questi esami e niente, speriamo di passare. L'importante è passarli, poi vediamo. Qual è il vostro motto? Dopo l'esame finalmente io diploma, dipende se agli 100 giorni ci svegliamo dagli coma. L'iniziativa, giunta alla 38esima edizione, rappresenta una sorta di rito spirituale con preghiera, confessioni, messe e momento di festa. Le due celebrazioni della mattina sono state ufficiate dal nuovo Vescovo di Teramo Don Lorenzo Leuzzi che ha invitato i giovani ad essere attenti alle scelte che faranno dopo la scuola. Qual è la speranza che questi ragazzi ripongono in San Gabriele? Bene, io credo che loro vengono qui a San Gabriele per trovare una forza, proprio questa speranza di mettere nelle mani di Dio per intercessione di San Gabriele il suo lavoro che con gli esami adesso di fine di scuola per dopo cominciare l'università e anche la sua vita per mettere nelle mani di Dio la sua vita e credo che questa sia la loro speranza. Ovviamente anche si vede ragazzi che vogliono divertirsi perché sono giovani anche io mi piace divertire ovviamente ma è importante che vengono qua e mettono nelle mani di Dio queste cose. Al termine di ogni celebrazione non è mancato il consueto e atteso rito della benedizione delle penne. Sicuramente tra i ragazzi c'è un risvolto scaramantico in questa loro partecipazione ma vederli seduti in migliaia in chiesa a pregare rimette in moto la speranza in tutti noi. e continuiamo a parlare di scuola ma per la questione vaccini e siamo alla città centri vaccinali presi d'assalto dai ritardatari ieri scaleva il termine per mettersi in regola con l'obbligo scolastico nessun alunno respinto tra virgolette nel Teramano obiettivo raggiunto all'asl di Teramo centrato l'obiettivo del 95% di copertura il caso a Sulmona con due famiglie Novax che sono state respinte andiamo alla politica adesso PD solito dibattito primarie sì primarie no Ginobble le propone per aggregare il centrosinistra Mariani teme strappi e cicatrici si decide in settimana per la corsa alla guida della città di Teramo nel taglio basso potere al popolo in assemblea oltre le elezioni politiche la sinistra alternativa attivisti e militanti si riuniscono per dare seguito al progetto politico ancora politica Movimento 5 Stelle ecco chi è Rocchetti quello giusto lo spauracchio dei politici maggiore indiziato per la candidatura a sindaco è un professionista di piano della lenta ancora nel centrodestra resteremo autonomi dice Quagliariello che dichiara conclusa l'esperienza di noi con l'Italia il Movimento Idea non sparirà aderendo a Forza Italia questa è la posizione del senatore andiamo a vedere il titolo sui 100 giorni all'esame la pioggia non ferma la carica degli studenti anche i ragazzi della scuola di Amatrice ieri mattina hanno partecipato alla manifestazione a San Gabriele che avete visto nel servizio nel taglio basso i 5 Stelle ufficiali prendono le distanze da Montorio 5 Stelle domani l'assemblea con gli ex esponenti PD dell'amministrazione montoriese andiamo in Val Vibrata guerra di perizie sul depuratore di Alba gastroenteriti il consulente della procura ribadisce il malfunzionamento ancora avanti torniamo invece alle beghe politiche a Giulianova il sindaco basta Teatrini o me ne vado ultimatum di Mastromauro al PD tutti presenti alla riunione di maggioranza Silvia al voto una commercialista per prendersi il comune la probabile candidata sindaco del Movimento 5 Stelle per le amministrative sarà Simona Astolfi gli altri il centrodestra sta ancora cercando un accordo per correre unito il PD punta a tornare al governo con l'ex sindaco Francesco Comignani proseguiamo ancora con Roseto degli Abruzzi ultimatum di De Luca la maggioranza il consigliere chiede una scossa sui provvedimenti per parcheggi e mobilità andiamo adesso ad aprire le pagine dell'Aquila appello agli albergatori di Amicis prezzi bassi per attirare i turisti così il direttore artistico della perdonanza che chiede più servizi e meno rincari poi si parla della seggiovia delle fontari giovedì il collaudo si punta ad aprire per Pasqua ma il commissario del centro turistico non si sbilancia sulla data ancora la tragedia di Paganica muratore morto caccia i cani killer si cercano gli animali che hanno aggredito l'albanese la procura ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura nel taglio centrale salvo un vigile del fuoco colto da infarto in caserma la moglie ringrazia i colleghi nel taglio basso è morto Ricci campione dell'Aquila rugby andiamo a vedere adesso insieme prima di passare alla pagina dello sport la pagina dell'Aquila sul messaggero fogne ostruite dalle malte il caso finisce in procura e l'apertura di pagina non c'è pace per chi vive e lavora in centro gli scarti dei cantieri hanno creato problemi saranno necessari altri giorni di lavoro per liberare le condotte lungo il corso chiaramente questo crea dei danni non solo ai commercianti anche ai residenti e poi il giallo del muratore morto si cercano i cani che lo hanno azzannato e ancora dall'Aquila droghe gioco d'azzardo e allarme i dati del SERD della ASL picco più alto degli ultimi nove anni negli ultimi 365 giorni 94 persone in più sono sotto terapia la prevalenza è nettamente maschile il totale dei pazienti è salito a quota 700 il numero maggiore dal 2008 ad oggi poi andiamo nella pagina di Avezzano sul Mona si torna a parlare di Anatra Zop del Comune e De Angelis apre a Udc e Lega il sindaco vara la fase 2 con questi due partiti sarebbe la prosecuzione naturale di un discorso politico già iniziato il primo cittadino spiega la strategia di salvataggio il nostro schieramento già aveva una connotazione di centrodestra di Pangrazio nessuna apertura gli ex democristiani e forse d'Italia prima maltrattati e ora cercati adesso andiamo ad aprire la pagina dello sport partiamo dalla serie B e dal Pescara Pescara Epifani chiede una svolta oggi alle 18 all'Adriatico c'è il Carpi bisogna conquistare il successo dobbiamo ritrovare la compattezza e questo viene prima di ogni schema per quanto riguarda gli avversari Emiliani con l'ex Melchiorri la difesa sarà a 3 andiamo a vedere anche il taglio basso c'è l'intervista a Edibivi Massimo non ha responsabilità Edibivi esamina la situazione questo organico non era idoneo neanche per il gioco di Zeman andiamo a vedere la pagina dello sport sul quotidiano il centro arriva il Carpi Epifani Epifani scuote il Pescara tre punti per ripartire il tecnico dobbiamo cancellare il K.O. col Parma voglio una prova gagliarda alle 18 il recupero della 28 giornata serve un successo per allontanarsi dalla zona play out abbiamo bisogno dei nostri tifosi tra poco ascolteremo le parole di Epifani Bakogu il Carpi punta sull'ex Melchiorri il nigeriano infortunato Calabro si affida all'attaccante protagonista col Pescara che perse la finale play off contro il Bologna nel 2015 allo stadio ci saranno 6.000 spettatori per questa gara intanto nel posticipo il Novara risorge il Brescia affonda partita finita 2 ad 1 torniamo alla gara di oggi ed andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Pescara Epifani Valsania squalificato Bovo Proietti Campagnaro ancora fuori aspetto di più da tutti non soltanto dai più anziani aspetto di più da tutti veniamo da una partita fatta male sotto tutti i punti di vista quindi riscendiamo subito in campo la partita di Sabre è servita un po' a tutti per capire tante cose speriamo che domani ci sia una prova di carattere importante perché bisogna fare sotto quel punto di vista una partita importante io alleno tutti i giorni so i difetti di questa squadra ci sto lavorando sopra e adesso ripeto devo essere bravo io a cercare di dalla partita di sabato e dalla settimana scorsa come l'abbiamo fatta di trovare la soluzione giusta per questa squadra e quindi sto ponderando bene le scelte da fare quindi insomma si giocherà a tre potrebbe essere come potrebbe potremmo rigiocare a quattro potrebbe essere ecco diciamo per essere ancora più precisi centro campo comunque a tre centro campo a tre sicuramente per per valorizzare anche di più brugman per farlo giocare meglio per dare più copertura anche alla linea difensiva no ma guarda allora giocare a calcio ci vuole determinate caratteristiche che sono il temperamento la voglia di fare dimostrare vincere il duello personale se non c'è tutto questo e noi ci possiamo parlare di modulo fine domani dopo domani il problema è ritrovare questo la prima cosa principale e poi ci metteremo in campo in maniera tale da fare una partita importante perché domani è una partita importante il presidente ha ragione quando si pone degli obiettivi io mi pongo domani la partita di domani ma come ho detto la settimana scorsa perché è una partita importante sotto tanti aspetti sia quella della classifica sia per ritrovare la fiducia in noi stessi che forse è la cosa più la cosa principale perché fare bene domani significherebbe cancellare definitivamente la partita di sabato scorso e di prepararsi a fare un'altra partita importante quella di domani e chiaramente seguiremo la partita delle Pescara con Diretta Stadio con Andrea Costantini qui in studio e i suoi ospiti dallo Stadio Adriatico Paolo Renzetti e poi ci sarà anche l'appuntamento con Proteramo alle ore 21 con Jacopo Forcella e proprio del Teramo andiamo a parlare adesso con il titolo del centro sulla Serie C Teramo più solido ma lì davanti resta il mal di gol il diavolo dipende dai colpi di Bacio Terracino e per segnare deve sperare di sfruttare qualche palla inattiva intanto nel posticipo Bassano Padova è finita 1 a 2 in Serie D l'Aquila il comune bussa soldi domenica non si giocherà andiamo a vedere insieme anche l'altra pagina dello sport sul messaggero con il titolo sul Teramo Teramo si accontenta della difesa ritrovata il primo punto conquistato in casa con il Sant'Arcangelo equivale a due gare senza gol però Ventola non ha brillato e Gondò è rimasto isolato in attacco Ilari difficoltà già note andiamo in Serie D Avezzano Mastica Amaro quel rigore non c'era di Giacovitti a Castelfidardo con due punti in meno e poi la vastese Bolami vuole rinforzare la società dopo i recuperi la squadra è stata rieganciata a quarto posto in chiave playoff ma in piena corsa e poi l'Aquila ultimatum del comune per il campo sportivo andiamo a vedere il titolo della città per quanto riguarda lo sport e il Teramo in particolare Teramo riecco le solite mancanze il diavolo chiamato a fare la partita come al solito si è ritratto per prendere il punticino a piccoli passi però la salvezza dovrebbe arrivare senza patemi completiamo la lettura delle pagine dello sport andiamo a vedere insieme il titolo che riguarda l'eccellenza Marino Chieti manca la mentalità il tecnico nero verde deluso domani Giulianova in coppa a Pomezia per la promozione parla il patron Santoro la svolta del Casalbordino grazie al mercato di dicembre andiamo a completare anche la lettura sul messaggero delle pagine dello sport passiamo al basket Roseto è costretta a tifare Bergamo di Paolo Antonio è paradossale dirlo ma la sconfitta con Trieste deve essere un nuovo punto di partenza è stata la nostra migliore partita Lorzinovi resta appaiata in coda con gli Sharks ma gli Sharks hanno lo scontro diretto a favore con gli Eurobici ma bisogna chiaramente vincere per il rugby Carnicelli l'Aquila la penalizzazione non può essere un alibi per noi dopo la sconfitta il mediano alle prese anche con infortunio il volle di A2 si eco domani ad Aversa per il punto tranquillità nel taglio basso troviamo il softball una nazionale che parla abruzzese la serie D Pineto Farias brilla nel test con la Samb era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con Mattino 6 è per domani alle ore 8 la nostra informazione oggi alle 14 alle 19 con un'edizione flash del telegiornale per lasciare spazio al recupero fra Pescara e Carpi e poi alle 23 per l'edizione della notte grazie ancora buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.